Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla sacrestia antica. Uno scrigno prezioso di storia. Chissà quante storie, chissà quante conversioni in questo luogo. Questo era il luogo dove Padre Pio confessava gli uomini. Questo, ad esempio, è un vecchio confessionale che era nella chiesa, invece di qui abbiamo il confessionale classico dove Padre Pio, qui c'era una tenda, tutti si assiepavano, tutti gli uomini qui si assepavano per attendere il loro turno. Di storie ne abbiamo raccontate. Però ce n'è una in particolare che riguarda i suoi confratelli. Una sera, insieme agli altri confratelli, presente Padre Costantino Capobianco che ci racconta questa storia, tutti i confratelli avevano una leggera incertezza, sebbene agissero in gen senso positivo. Per diradare, ogni dubbio si rivolsero direttamente a Padre Pio. E gli chiesono, vado sul virgolettato, Padre, faccia la carità di rispondere ad una domanda. Non gli chiediamo proprio nulla, neppure sfiorare il sigillo, ovvero il segreto confessionale. Ecco, quando lei non ha solde, lo sappiamo perché molte volte da questo confessionale, da questo luogo sono state cacciate tantissime persone che poi sono tornate, pentite e convertite. Ecco, quando lei non assolve, quelle anime poi vengono da noi, perché giustamente molti frati si ritrovano nella chiesetta e quindi andavano a consolare tutte queste queste persone che in lacrime, o chi in chiesetta, chi fuori, ecco, e chiedevano una confessione con loro. Allora, quando lei non assolve, con quelle anime come dobbiamo regolarci? Assolvere o no? E tra questi c'era Padre Tarcisio da Cervinara che fece proprio questa domanda diretta a Padre Pio e Padre Pio disse, voi dovete assolvere, di Padre Pio ce n'è uno solo. Questa risposta che potrebbe suonare non troppo bene ai cosiddetti leggerini, scrive Padre Costantino Capobianco, invece è umana, veritiera e rivelatrice.